Morti di fame nell'India digitale. Amici di Come Don Quixote, ben ritrovati con il Tecno-Ribelle. Informazioni demografiche e biometriche, ovvero 10 impronte digitali, 2 scansioni dell'iride e una fotografia facciale nell'abbinamento con cellulare e smartphone. Nell'India digitale solo così si può avere ADAR, in lingua indie fondamenta dal Ministero dell'Elettronica e dell'Informatica, disponibile per tutti, dalla culla alla tomba, per il neonato fino all'anziano, 12 cifre univoche rilasciate come tessera annonaria, con microchip a radiofrequenze in cambio di sussidi, vantaggi, pensione, carburante e cibo, qualcosa a metà tra il reddito di cittadinanza e il sistema di credito sociale cinese e il potenziamento del Super Green Pass italiano. È l'unico programma del genere a livello mondiale in cui l'identità digitale all'avanguardia viene fornita gratuitamente su una così ampia scala di cittadini. si legge nel sito del governo indiano su lascia passare, valido oppure per scuola, lavoro, banche, ospedali e vaccinazioni Covid-19 e ha il potenziale per cambiare il modo in cui funziona la fornitura dei servizi alla nazione. L'asiatico ADAR ambisce quindi all'inclusione sociale, diritti e libertà monitorate in QR code esattamente come vorrebbe il wallet system del ministro Vittorio Colau nonostante la Suprema Corte dell'India abbia affermato come nessuno dovrebbe soffrire per non aver ricevuto ADAR e che lo Stato non può negare un servizio a chi non ha l'identità digitale. Infatti oltre la sorveglianza dei cittadini e il trafugamento sistematico dei dati la Black Mirror indiana sta collezionando vittime, un filotto di macabre tragedie manco fossimo al Museo degli Orrori. Nessun'altra democrazia al mondo sottopone i suoi cittadini a un tale rischio per tutta la vita contestano gli appositori. Perché il piano di ingegneria sociale spacciato per modello da imitare? in realtà uccide per denutrizione aumentando la fame in tutto il paese dove i poveri delle aree rurali e cittadini de-digitalizzati sono oggi nuovi esclusi dell'informatizzazione tra le vette dell'Himalaya e il Sacro Gange. La lista nera è lunga. Una bambina di soli 11 anni è infatti morta chiedendo riso, cancellata la Dardi famiglia per mancato collegamento al sistema centrale. Un uomo di 64 anni è poi morto di fame in un villaggio perché per due mesi gli sono state negate le razioni alimentari nonostante avesse un'identità digitale valida e regolarmente attiva. Un altro uomo di 60 anni è morto di fame dopodiché l'autenticazione biometrica non è riuscita a provare la sua identità. Una donna di 67 anni è poi morta di fame e stanchezza prolungata negate pensione alimenti per scarsa connettività a internet. Per tre mesi Adar non è riuscita a leggere le sue impronte digitali. E poi c'è la storia di un 25enne che vive in capanna con ramoscelli, fogli e fango in un villaggio. Mio padre è morto perché non ha potuto ottenere la sua Adar, dice il giovane, e io non ricevo cibo perché la mia Adar non è collegata al negozio di reazioni. E così via. Sat Nam tra le denunce dei cittadini indifesi e il negazionismo istituzionale che smentisce la correlazione tra decessi e programma digitale. Però in un solo anno, nel solo stato dello Yurkend, delle 57 morti per fame, almeno 19 sono state direttamente addebitate sul conto di Adar. Disumanizzante, tuona un avvocato civilista che definisce la digitazione dell'esistenza nell'esclusione sociale dei nuovi emarginati, il vero dramma attuale, il futuro ineludibile che prima non c'era nell'avanzata del nuovo paradigma tecnologico della quarta rivoluzione industriale. Sì perché sotto mentite spoglie in India, esattamente come in Italia, si sta instaurando un neofeudalesimo 3.0 nella riproposizione delle caste per la tecnogabbia a colpi di device e super app, la più tirannica, tecnocratica e totalitaria delle distopie mai contemplate nella storia dell'umanità. Namaste. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, Saluti Ambiente, Geopolitica, Privacy Transumanesimo e Controllo Sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche dalla Casa del Sole TV. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS